ciao sono marco il video di oggi si intitola tu stai facendo come apple ho deciso di fare questo breve video anche oggi con questa domanda perché voglio portarti a domandarti se stai facendo questo per la tua azienda ovvero stai facendo come apple e cosa intendo dire con stai facendo come apple se tu ci pensi apple una volta l'anno mediamente lancia i suoi prodotti parliamo per esempio degli iphone ma anche per quanto riguarda più o meno i mac e portativi avviene una volta l'anno il lancio di nuovi prodotti nel lancio grazie al lancio di questi nuovi prodotti ottiene boom e vendite record proprio al lancio del prodotto e tu mi dirai sì ma io marco ho una piccola impresa cosa vuoi che io faccia come apple invece è proprio quello che voglio portarti a far ragionare e a farti riflettere su questa cosa se tu hai la hai creato avrai un tuo portfolio di clienti hai un piccolo numero di clienti quello che devi pensare non è ok va bene trovo il cliente nuovo facciamo il cliente nuovo il cliente vecchio basta finito via dimenticatoio eccetera quello che tu devi pensare oggi è di fornire ai tuoi clienti già esistenti di per esempio lanciare o rilanciare un prodotto nuovo prodotto servizio o anche rilanciare un prodotto che già hai semplicemente ma diciamo rilanciarlo per chi non lo ha magari acquistato oppure semplicemente un nuovo servizio quindi ecco come in realtà ti è possibile fare come apple anche se la tua è una realtà piccolina non deve essere necessariamente appunto una società per azioni o chissà quale grossa azienda quello su cui tu devi fondamentalmente andare a lavorare proprio la diciamo la creazione di questo fondamentalmente di questo lancio di questo prodotto o nuovo servizio quindi ecco come anche un singolo magari annuncio sponsorizzato una singola newsletter inviata ai tuoi già clienti possa generarti un boom di vendite anche in un periodo mediamente breve d'accordo quindi mettiamola giù bruttissima hai bisogno di liquidità quello che puoi fare è prendere la tua lista dei clienti offrir loro una nuova anche consulenza per esempio ed ecco che inviando loro una newsletter potresti avere l'agenda piena da qui all'anno prossimo e fatturato garantito da qui all'anno prossimo quindi ecco come si può facilmente fare come apple semplicemente andando a lanciare una qualche offerta comunque un servizio o anche un prodotto o anche un servizio un prodotto sia nuovi che di quelli invece che abbiamo già possiamo semplicemente rispolverare e riportare in auge un prodotto che magari non stavamo più vendendo quindi questi sono soltanto alcuni piccoli consigli su quello che puoi fare proprio per comportarti come fa fanno i grandi come fa apple di fatto quindi andare a diciamo fidelizzare poi quello che sono i tuoi clienti ti permetterà di andare a garantirsi un riacquisto se tu ci pensi l'utente apple aspetta il modello nuovo per comprare il modello nuovo capisci quindi quando viene presentato il nuovo modello è normale per l'utente apple acquistare il nuovo prodotto d'accordo seguimi il concetto non stiamo parlando di prezzi adesso non stiamo parlando di strategie particolari o sima iphone nuovo è uguale al vecchio eccetera così l'utente in target l'utente fidelizzato chiamiamolo così è l'utente che al nuovo prodotto al rilancio del nuovo prodotto acquista nuovo prodotto oppure l'utente apple al lancio del nuovo prodottino quindi non so il man safe piuttosto che il nuovo accessorio parliamo degli airpods per esempio acquista nuovo accessorio quindi non è necessariamente un nuovo prodotto non è necessariamente un nuovo iphone ma potrebbe anche essere semplicemente un nuovo gadget un nuovo prodotto affiancato a un prodotto già esistente quindi semplicemente con un lancio ecco come possiamo quindi con un piccolo annuncio o con appunto con una piccola newsletter possiamo apprendere andare ad impattare su tutti quanti i nostri clienti e ottenere un boom di vendite anche in un periodo mediamente breve ecco quindi come è possibile anche se la tua realtà è piccola andare a fare proprio esattamente come fa apple bene io mi auguro che questo video sia stato per te utile ed ispirazione se qualche dubbio qualche domanda scrivilo qui sotto lasciamolo scritto qua sotto se invece ancora stavi cercando qualche approfondimento ti piacerebbe approfondire qualche argomento trattato in questo video o anche in altri video presenti nel mio canale lascia manoscritto anche questo qua sotto anche in modo tale che così o magari possa trovare qualche altro nuovo spunto o qualche altra nuova idea per qualche altro video di informazione proprio come quello che hai visto adesso in ogni caso comunque se questo video ti è piaciuto metti mi piace qui sotto e seguimi nei prossimi video ciao 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 ciao